C'è il Piano Neve 2024-25, il Comune con il settore opere pubbliche l'ho appena approvato. Ovviamente ha un piano in itinere che cambia a seconda delle esigenze. Viene impiegato personale dell'amministrazione comunale assieme a ditte esterne per coprire un territorio vasto che ha ben 63 frazioni. Obiettivo in caso di neve gelata è garantire la percorribilità delle strade comunali in tutta sicurezza. Nell'autoparco la sala operativa, che viene attivata in caso di precipitazione e all'attivazione del Piano Neve, è chiamata in causa anche la Municipale, che dovrà provvedere a restituire dei punti di controllo sulla viabilità di accesso alla città per verificare il possesso delle gomme delle auto adatte e delle catene a bordo. Tutti i mezzi comunali spazzaneve e spargisale saranno messi a disposizione, più quelli delle ditte. Come ogni anno l'Aggiunta ha approvato il Piano Neve, previsto per legge. Noi abbiamo a disposizione 10 mezzi, 10 spazzaneve, incorporato anche lo spargisale. Più dobbiamo ricorrere all'ausilio di ditte esterne, circa una vendina, che si dovrebbero occupare delle 63 frazioni dell'Aquila. Ovviamente, come ogni anno, è stata stilata una graduatoria dei punti cittadini che hanno maggiore priorità, come ospedale, scuole e vie principali. Quest'anno è stato istituito anche un servizio di reperibilità per le zone dove ci sono i progetti case e map. È prevista già da adesso una reperibilità per tutte le problematiche per quanto riguardano i progetti case e map, però verrà integrata con un'ulteriore unità o due unità che si occuperanno solo e esclusivamente dei progetti case e dei map.